la misura, soprattutto sul sostegno, sulla scuola dell'infanzia ci risultano quasi una sessantina di posti sul sostegno ancora dal pubblico, ancora in infanzia 60 posti sul sostegno, ora sto parlando, ripeto prendetevi con le molle, questa è tutta la provincia delle scuole dell'infanzia, ci risultano sulla scuola primaria tra i 100 e i 140 posti da coprire, quindi numeri rilevanti, stesso discorso sulla scuola secondaria di secondo grado, scusa 140 posti sulla scuola primaria e un numero più o meno equivalente sulla scuola secondaria di secondo grado e una novantina di posti sulla scuola media di primo grado, quindi voi capite che significa che qui praticamente nessuno degli alunni che avrebbe diritto al sostegno è entrato in classe a settembre trovando? e questo è la situazione quanti non ci sono?